ciao bambini sono fatina birichina e qui c'è il mio aiutante spinchi picchio oggi siamo stati in edicola e abbiamo preso guardate un po dillo tu spinchi e le mega machine le velocissime go a 3 euro e 50 contiene un personaggio in allegato alla rivista mondo centauria bene spinchi allora puoi iniziare ad aprire prendere fornici così fatica e vediamo ci troviamo nella busta allora qui abbiamo il librettino e direi che possiamo aprire la busta che vediamo che personaggio abbiamo trovato forza basta va bene così che non staglia anche il gioco andiamo un po è crusher crasher abbiamo trovato bellissimo vuoi vedere bello velocissime go ciao bambini il video è terminato e tanti saluti alla prossima da fatina birichina e spinchi picchio fibre buongiorno non ok bello bello po